È nel 42, 42, 42. Vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine. Però tanto so donna, quindi il militare non l'avrei fatto. L'Italia 2015 è la numero 5, Alice Sabatini! Ma che piacere! Miss Italia nel mio negozio, sono lusingato. Prendo un paio di scarpe, vuole il 42? Signorina Miss Italia, che onore averla nel mio studio. Adesso facciamo una piccola visitina, vediamo. Dica 42. Amore di papà adesso basta. È una gaff da nulla, la dimenticheranno subito. E poi sei diventata Miss Italia. Adesso andiamo da tuo cugino, andiamo a divertirci e dimentichiamo tutto. Tuo cugino oggi fa il compleanno, compie 42 anni.